Benvenuto e grazie. Allora, il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Giorgio Palù, ha detto che il Covid non si può più chiamare pandemia, che in qualche modo è mutato, è cambiato, non è più esattamente una pandemia, non ce ne libereremo mai, ma insomma pandemia è un'altra cosa, che è una buona notizia. Lei è d'accordo? Beh, pandemia è un termine tecnico che noi usiamo quando un virus nuovo arriva in una popolazione che non l'ha mai visto. Ora, questo virus, gran parte della popolazione o l'ha visto, oppure si è vaccinato a entrambe le cose. Quindi la situazione è cambiata, nel senso che questo virus non sta più incontrando una popolazione che non ha delle difese, ma incontra una popolazione che ha delle difese. Questo però non vuol dire che qualcosa che non è pandemico possa essere innocuo. Il vaiolo non è stato pandemico per tanti secoli, faceva il 30% di morti prima del vaccino. In questo caso, per fortuna, la situazione è molto meno grave, però ancora stiamo pagando un prezzo non irrisorio in termini di morti, sono più di 700. Il governo, lo dico ancora una volta, i nostri inviti al ministro Schillacci non sono stati raccolti, ma quando il ministro volesse venire a confrontarsi con il professor Borioni, essendo colleghi sarebbe credo utile per tutto il nostro pubblico, ha eliminato il tampone per uscire dalla quarantena, anche se continuano a morire 600 persone circa la settimana. Noi dobbiamo trovare un equilibrio tra il convivere con questo virus e il non fare morire le persone. Ora, secondo me, quello che dobbiamo evidenziare è che anche se noi ci siamo stancati, anche se non abbiamo più voglia di avere a che fare questo virus, questo virus è ancora tra di noi. Questo virus può essere trasmesso da persone che non hanno sintomi e appunto questo virus per le persone deboli, che magari non sono state vaccinate o che non vengono appropriatamente curate, fa dei morti. E allora le decisioni politiche io non le voglio commentare, ma dal punto di vista scientifico è opportuno tenere presente che questo virus è ancora tra di noi, anche se ci ha stufato. Questa settimana è stata ricca di notizie, una forse va sottolineata ed è quella che ci porta a introdurre un ospite che grazie a lei abbiamo raggiunto. Abbiamo una notizia veramente... Ascoltati bene perché è veramente una cosa di enorme importanza. Sì, è importantissima ed è qualcosa che è fantascientifica. Ora, io e lei abbiamo più o meno la stessa età, se pensiamo ai computer di quando eravamo piccoli ci immaginavamo delle cose gigantesche che costavano miliardi, che consumavano energia, adesso abbiamo tutti in tasca un cellulare che ci dà la posizione, ci dice la strada, fa da telecamera, qualcosa di... Impensabile. Impensabile. Perché? Perché qualcuno ha inventato computer più piccoli, perché ha inventato microprocessori che consumano di meno, degli schermi portatili e via dicendo. Ecco, noi oggi raccogliamo il frutto di due avanzamenti incredibili che si uniscono e danno un risultato. Uno di questi avanzamenti lo conosciamo, il vaccino. Il vaccino mRNA, quello che abbiamo fatto in poche settimane invece che in un decennio. Ma ce n'è un altro che... Però ce n'è un altro che magari non tutti conoscono, è la possibilità di sequenziare integralmente il DNA, che è la molecola che ha tutte le informazioni delle nostre cellule, di un uomo. Questo è stato fatto per la prima volta nel 2003, quindi non cento anni fa. Ci sono venuti 13 anni e molti miliardi di euro. Ora, questo si può fare in poche ore e con una spesa di alcune centinaia di euro. Mettiamo insieme queste due cose e arriviamo a parlare dei tumori. Ora, le persone sanno cosa è il cancro. È una nostra cellula che comincia a replicarsi in maniera incontrollata. Uno dei motivi per cui una cellula tumorale riesce a replicarsi è perché il cancro è molto abile a ingannare il nostro sistema immunitario e a bloccarlo, addormentarlo, farlo, diciamo, renderlo complice della crescita del tumore. E allora, che cosa si è fatto? E sembra fantascienza, ma è vero. Da un lato si è presa la cellula di un paziente normale e la cellula di questo paziente del tumore. Poi cosa hanno fatto? Hanno sequenziato il DNA di entrambe le cellule. Per capire dove è il guasto. Poi le hanno messe in un computer e un algoritmo di intelligenza artificiale, questo sembra fantascienza, ma è realtà, che ha paragonato il DNA del tumore col DNA della cellula normale e ha messo a punto un vaccino che può essere utilizzato per stimolare il sistema immunitario del paziente contro il suo tumore. Quindi mentre il vaccino contro il Covid è un vaccino contro un virus che è uguale per tutti... Personalizzato. Questo è personalizzato. In teoria, per ogni... non in teoria, in pratica. In pratica. Per ogni paziente, affetto non da tutti i tumori, ma per alcuni tumori... Per ora si è cominciato da uno, però il concetto può essere stesso. Che è il melanoma. Il melanoma. Si è trovata questa possibilità di fare un farmaco, una sorta di vaccino personalizzato per quel paziente. Per risvegliare il sistema immunitario di quel paziente contro il suo tumore. È una cosa epocale, è una cosa assolutamente epocale. E il professor Burioni credo ci possa portare, presentare... Sì, perché questa settimana sono stati presentati i dati della prima sperimentazione. Cioè, questo è stato fatto su alcuni pazienti con un tumore in stato molto avanzato. Chi ha fatto la sperimentazione? La sperimentazione è stata fatta da diversi centri. Vi ha partecipato anche una delle aziende che ha prodotto uno dei due vaccini... Certo, è RNA, perché è moderna, no? I razzi, li fa chi sa fare i razzi. Certo. I vaccini li fa chi sa fare i vaccini. E questo è stato fatto da Merck e da Moderna. E noi questa sera sentiamo questi risultati che sono stati veramente entusiasmanti. Si potrebbe aprire... Una nuova era. Abbiamo in collegamento un ospite. Abbiamo un ospite che è un mio collega, un medico, un oncologo di grandissimo prestigio ed è la persona, Kyle Hollen, che ha diretto questo studio che, ripeto, cinque anni fa era tanta scienza. E oggi l'hanno fatto. E noi ci colleghiamo con Boston, con il dottor Kyle Hollen. Buonasera, anzi, buon pomeriggio, dottore. Grazie. Grazie molto. E complimento, intanto. Ci dica qualcosa di più. Che cosa significa questa scoperta? Siamo tutti entusiasti perché è la prima volta che questo vaccino di fatto è stato promettente per i pazienti oncologici. Quindi stiamo esplorando tutta una serie di tipologie di altri cancri con la stessa tecnologia. Dunque, se ho ben capito da quello che ho letto, questo che noi chiamiamo vaccino, anche se non è un farmaco preventivo, non è che non fa venire il tumore, è un farmaco terapeutico che si dovrebbe somministrare in aggiunta a farmaci immunoterapici. Cioè, oltre all'immunoterapico, già in corso in questi anni, che si adopera già in questi anni, questo ulteriore vaccino potenzia di oltre il 40% l'efficacia sul tumore. Sì, è vero, corretto. Questo vaccino, una volta usato in combinazione con un altro trattamento immunitario, può ridurre il rischio di recidiva o addirittura di esito in fausto. E l'abbiamo migliorato del 44%. La cosa ci entusiasma tantissimo. Dottore, per quali altri tipi di tumore, oltre al melanoma, potrà essere utilizzata questa tecnologia? Ci sono molte tipologie di cancro, ma per esempio stiamo esplorando questo vaccino per il cancro al polmone, al colon retto, ha molte altre tipologie, cancro al seno, per esempio, è assolutamente promettente e ci saranno ulteriori possibilità in futuro. Insomma, per chi ci sta ascoltando, dottore, lo dico anche al professor Burioni, i tempi sono fondamentali, no? Nel senso che un paziente malato di tumore, di fronte a queste notizie, da una parte riceve conforto, ma dall'altra può anche dire, chissà, se per quel che mi riguarda avrò modo di beneficiare di questa terapia. Ecco, i tempi reali quali sono perché questo diventi realtà per tutti? Speriamo di poter avere questa terapia disponibile a tutti, il più in fretta possibile. Il tutto dipende dai nostri colloqui con l'autorità europea e altre autorità mondiali e presenteremo questi dati a questi enti e speriamo che anche loro ammettono quanto promettenti questi dati sono e ci diano un'approvazione il più presto possibile e accesso al vaccino. Io vi chiedo scusa, devo interrompervi per 45 secondi e torno, pubblicità, 45 secondi. Grazie, dottore, grazie, per la pazienza. Eccoci qua di nuovo col dottor Kyle Ollen. Stavamo parlando di questa sensazionale e promettente scoperta, ricerca, che abbinerebbe appunto un vaccino mRNA a degli immunoterapici già in uso e che sarebbe capace di ridurre ad personam, cioè quindi paziente per paziente. Stiamo parlando di tumori molto avanzati, questo è l'elemento... Ecco, in che fase, dottore, sono efficaci? In che fase del tumore che viene classificato da 1 a 4, in che fase sono efficaci questi farmaci? Allora, lo studio che abbiamo effettuato è stato fatto su pazienti che hanno una stadiazione 3, ma noi crediamo che ci sarà un'efficacia anche con stadiazioni prima dello stadio 3. Dottore, voi mirate, come dire, a cronicizzare il tumore o può anche in qualche modo regredire con questi farmaci? Speriamo di poter somministrare questo vaccino a coloro che, per esempio, hanno un rischio altissimo di recidiva e quindi impedire questa recidiva del cancro e quindi praticamente cerchiamo di dare loro la possibilità di guarire e di non preoccuparsi più. È una cosa sensazionale, insomma. Siamo alle soglie di qualcosa di nuovo e io penso che sia difficile cornere in questo momento la potenzialità. Soltanto il tempo ci dirà quanto questo è importante. Ecco, io su questo vorrei fare una domanda al mio collega, prima di tutto fargli complimenti per questo bellissimo studio che hanno fatto, che è veramente da fantascienza, ecco. Quindi complimenti e complimenti grandissimi. Quali pensi che possano essere i tempi per avere i risultati più dettagliati disponibili per la comunità scientifica in modo che noi si possa capire meglio veramente le potenzialità di questo approccio straordinario? Grazie, è una bellissima domanda. Noi in questo momento stiamo preparando appunto una relazione e presenteremo alle redazioni delle pubblicazioni scientifiche al journal e speriamo che appunto sia in grado di pubblicare i nostri risultati in un paio di mesi, quindi non lasciatevi ascoltarli. Beh, fantastico. Due mesi e domani mattina. Dottore, le faccio una domanda invece più pratica prima di salutarla. Il fatto che si stia parlando di una cura di un vaccino, quindi ad personam, ci ho ben capito, quindi non per una tipologia di tumore ma proprio per ogni paziente, può indurre a pensare che il costo del farmaco sia terribilmente alto e quindi poco accessibile? Cioè una cura insomma molto costosa? Questo non lo so. Si tratta di una domanda che probabilmente altri saranno in grado di prendere in considerazione e di risponderla. Io sono responsabile di quelli che sono gli studi clinici della parte scientifica e quindi noi vogliamo assolutamente fare in modo che ci sia una prova conclamata che questa terapia sia efficace e sicura. E tutto, non ho idea di quanto possa venire a portare. Però speriamo che sia accessibile a tutti, di solito funziona così. Io vorrei fare un esempio. Ecco, quando noi, sempre noi che siamo della stessa generazione, chi avrebbe mai potuto pensare di avere una telecamera per ogni persona? Ecco, il cellulare ce l'abbiamo. Io pensavo alla telecamera come qualcosa di gigantesco e costosissimo. Mai avrei pensato di poter... Cioè mano a mano che naturalmente si estende, si allarga la platea di cui utilizza. La tecnologia porta anche a un abbattimento dei costi. Quindi per fare la sequenza di una cellula ci sono tenuti miliardi e tredici anni. Ora ci vogliono centinaia di euro e tredici ore. Quindi io penso che dobbiamo essere ottimisti sia sui tempi perché... Intanto volevo ringraziare il dottor Olen perché davvero, ecco, in questi tempi di antiscienza, ecco, è la dimostrazione ancora una volta di quanta fiducia dobbiamo avere nella scienza e quanta gratitudine dobbiamo avere verso gli scienziati. Come il dottor Olen a cui auguro buon Natale e grazie di cuore per questa bellissima notizia. Grazie mille dottore. A proposito di Natale, professor Burioni, un consiglio per le feste dove ci riuneremo in tanti e saremo in tanti? Allora c'è anche un'altra buona notizia questa settimana. Sono arrivati i primi dati sui nuovi vaccini bivalenti, quelli più aggiornati e sembra che funzionino molto, molto, molto bene nel prevenire la malattia grave anche contro le varianti, diciamo, più recenti che più ci preoccupavano. Ora, prima di tutto, la prima regola, non c'è solo il Covid. Se uno sta male deve stare a casa. Semplice. Se uno ha il raffreddore, la tosse, la febbre, non deve andare al cenone di Natale. Ci vogliono particolari precauzioni se al cenone di Natale ci sono persone molto anziane oppure fragili perché hanno delle malattie. Ecco, quelle sono le persone che corrono maggiori rischi. Quindi, sincerarsi che queste persone siano vaccinate, perché è la prima difesa. Mascherina sui treni. Io la mascherina è nei luoghi affollati. Nei luoghi affollati. Io la porto perché comunque mi difende anche dall'influenza. L'influenza è meno pericolosa perché è meno contagiosa ed è più raramente trasmessa da chi non ha i sintomi. Però c'è, quindi bisogna preoccuparsi anche di quello. Io, personalmente, quello che faccio, anche per essere più tranquillo e anche perché ormai è molto semplice, parlo, non costa niente. Io ho due genitori di 93 e 92 anni. Saluto, magari mi stanno guardando. Li salutiamo con affetto. Voglio incontrarli in tutta sicurezza. Per cui, prima di incontrarli, io mi faccio un tampone rapido. Grazie. Nella gola. Buon Natale. Buon Natale. Arrivederci. Grazie, Vestor Burioni. Filippa.